Ciao, sono Kiko C e oggi scassiamo la nostra piastrina Ronny con il radicchietto. Allora, partiamo con la pre-preparazione della ricetta. Ho già tolto in anticipo le foglie zozze marciolente esterne. Ora tagliamo in quattro, sciacquiamo e lo mettiamo a spurgare mezz'oretta fatta bene nel sale grosso. Piastrine in temperatura e via. Allora, a me piace particolarmente arrostito, quindi per cinque minuti proprio non l'ho neanche degnato di uno sguardo. Passato quel tempo siamo così, via una flippata sull'altro lato e proseguiamo con la cottura. Altri cinque flippata finale e via. Ecco, ecco, ci siamo, lo pigliamo, lo mettiamo via e prepariamo il condimento. Condimento easy, sale, zic di pepe e olio. Come piace al socio perri perché praticamente questo è un video su richiesta. Promosso, promosso ideologico. Al radicchio come all'asparago permetto di tutto, anche di rubarmi il portafoglio. Ciao belli, spaccate un like e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.